Il mio obiettivo stagionare è quello di poter andare a Rio, la qualifica c'è stata, speriamo di confermarci e di poter raggiungere questo traguardo che per me è la prima volta. Adesso abbiamo gli Orofei, dobbiamo far bene che è il primo test fondamentale per testare un po' il livello individuale della squadra e poi ci prepariamo per le Olimpiadi. Arrivo, si va per la medaglia, non per partecipare, non sono il tipo, perfetto, allora grande bocca al lupo.